Ciao, io sono Arianna e sono tornata. Lo so, è un sacco di tempo che non faccio video, infatti sono anche un pochino imbarazzata in questo momento davanti alla telecamera, però ho deciso di riprendere e quindi portare nuovi contenuti sul canale. Vi avviso già che il mio canale prenderà una piega diversa da quella che aveva, perché sono cambiate molte cose e soprattutto sono cambiata io, quindi i miei interessi sono ben diversi da quelli che avete visto fino ad ora. Ovviamente ci sarà sempre la parte inerente al beauty, al make-up, però molto ridotta e darò più spazio ad altre situazioni che mi interessano, non più o meno del make-up, però diciamo altre sfaccettature della mia personalità. Continueremo a parlare sicuramente di alimentazione sana, di allenamento, ci saranno dei blog, ho intenzione di parlarvi anche dei libri che leggo, quindi farvi delle recensioni su libri che mi sono piaciuti o quelli che purtroppo vi sconsiglio perché a me non hanno lasciato nulla. Ovviamente sarò sempre disponibile ad accogliere le vostre richieste, quindi se avete qualcosa da propormi, io ovviamente sarò sempre contenta di leggere i vostri commenti e provare ad accontentarvi. Niente, quindi vi volevo semplicemente annunciare che sono tornata. Sto pensando di registrare dei blogmas, però premetto che lavorando più di 8 ore al giorno e alcune volte a settimana addirittura sopra le 12 ore, per me sarà difficile riuscire a fare dei blogmas giorno per giorno, per cui avevo pensato di registrare magari 2-3 giorni insieme e pubblicare appunto questi blogmas ogni 2-3 giorni. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere in modo da poter sicuramente rendere i video più interessanti, in quanto lavorando parecchio e nella mia giornata le trascorro al lavoro e avrei poco da dirvi, e anche per facilitarmi un pochino anche nell'editing. Quindi aspetto i vostri feedback riguardo appunto questa mia idea per i blogmas e ovviamente vi do appuntamento a tutti i prossimi video che ci saranno sul canale.